Ormai la città di Campobasso si è carata nella condizione che la crisi idrica comporta sacrifici, ma certo non può tollerare che alla crisi dell'acqua si aggiunga il problema della disorganizzazione. Veniamo al fatto, sabato sera, a fronte di una chiusura prevista alle 24 in alcune zone di Campobasso, comprese quelle dove gravitano diverse attività come pub e risorranti, i rubinetti sono stati chiusi alle 23, quindi un'ora prima che nel caso di esercizi commerciali che operano il sabato sera è davvero un fatto grave, forte disappunto dagli esercenti di attività commerciali che hanno chiesto sostegno al Comune che, lo ricordiamo, non ha competenza nella chiusura dei serbatoi in carico riconducibile a Molise Acque. Il Comune, con una nota risposto alle legittime dimostranze della cittadinanza, la nota ha dita l'inadeguatezza di chi gestisce il servizio idrico, l'accordo della chiusura postecipata alle 24, continua la nota del Comune, era stato concordato e comunicato con largo anticipo da Grimm, accordo raggiunto durante un tavolo tecnico convocato proprio dalla Grimm dopo la diffida inviata dal Comune di Campobasso. Ebbene, in barba alla decisione concordata, sabato sera, i serbatoi di Cesebasso e Calvario sono stati chiusi un'ora prima alle 23, senza alcun preavviso, questo ha lasciato all'improvviso attività di ristorazione, strutture ricettive e abitazioni di tanti cabobassani senza acqua. La sindaca forte conclude la nota dicendo che ha richiesto a Molise Acque una spiegazione plausibile, non è possibile più tollerare questa situazione e lasciare la città in balia di chi ha dimostrato di non riuscire a garantire servizio né di mantenere fede agli accordi presi. La gestione, decisamente inadeguata del servizio idrico, non sarà più tollerata.